Un'aquila al Cardarelli, un'aquila nelle stanze del reparto di pediatria per portare qualche ora di svago ai bambini malati. Avarcato ai confini regionali, l'approvazione generale per l'iniziativa nata da un'idea del gruppo Molise Bianco Celeste, resa possibile dal presidente della Lazio, il senatore Claudio Lotito. L'aquila che è entrata in ospedale non è infatti un volatile qualsiasi, ma è l'aquila Olimpia, simbolo della Lazio che da 14 anni vola sullo stadio olimpico prima di ogni partita della squadra Bianco Celeste. Il suo addestratore è Juan Bernabè. Un momento veramente interessante dentro del nostro lavoro della Lazio. Non è perché il presidente Lotito sia di questa zona, diriamo, un peso importante della parte di Molise. Il presidente Lotito e la famiglia Mesa Roma anche sempre hanno stato vincolati alla solidarietà con le persone. Abbiamo fatto questo tante volte in tutta la zona di Roma, in tutta la regione Lazio. Per noi è un onore poter stare qui in Molise. L'Olimpia oggi è l'Alasio in volo. Quando comienza la partita dell'Alasio è un momento unico dentro del calcio italiano. Evidentemente le persone vedono un peso dell'oro che vola nell'estadio perché l'Olimpia rappresenta l'Alasio. Presente per l'occasione anche il team manager dell'Alasio, Maurizio Manzini. Noi insieme anche ai calciatori in certi casi, quando è possibile, ci ritroviamo in tutti questi posti dove c'è gente che soffre. E soprattutto dove ci sono bambini che soffrono. Perché strappare un sorriso a uno di questi bambini per noi è come una medaglia d'oro. Veramente. Per il gruppo Molise Bianco Cialeste è una giornata da ricordare, come ha sottolineato il fondatore Gabriele Passaro. Abbiamo quasi 100 iscritti e ogni anno noi organizziamo qualche iniziativa di solidarietà che possa avvicinare la Lazio alle persone che magari non sono vicine al calcio anche. Ringrazio il presidente Rotito, il quale si è dimostrato subito disponibile appena gli ho proposto questa possibilità. Ringrazio il dottor Campo che è stato preziosissimo nella riuscita dell'evento e ringrazio tutta la Lazio. Approvazione per l'iniziativa è arrivata anche dai medici del Cardarelli. È stata una bella iniziativa, credo che abbia divertito e ha fatto piacere a tutti i bambini. Sarebbe stata una cosa se l'avessimo potuto estendere da altre parti ma purtroppo la maggior parte dei pazienti che stanno nel nostro ospedale sono anziani e probabilmente avrebbero gradito di meno. Però con i bimbi è stata veramente una cosa simpatica e piacevole e credo molto gradita da parte degli stessi bambini. È un'iniziativa che quando mi è entrato l'amico Gabriele non abbiamo esitato a perorare coinvolgendo ovviamente i vertici dell'azienda che ci hanno dato carta bianca su tutto e quindi eccoci qui oggi a tutti i festanti a gioire con l'Aquila della Lazio. Questa è una bellissima iniziativa non solo per i bambini ma come vedete anche per gli adulti e veramente dà un sorriso che è quello che bisogna portare dove c'è in genere il dolore e la sofferenza e quando sono i piccoli a avere sofferenza è ancora più triste. E non possiamo che ringraziare la società Lazio, il presidente Lutito e il super falconiere Juan simpaticissimo e bravissimo ad addestrare quest'Aquila meravigliosa.